ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel nuovo episodio qua sulla elmy creek allora intanto mi scuso per l'assenza di ieri ma ho avuto qualche problemino vabbè diciamo tutto risolto allora ci troviamo quest'oggi che siamo al primo febbraio siamo alle quattro e mezza più o meno del pomeriggio e sta nevicando quindi prima che si intasino le strade di neve andrei subito a vendere le uova perché abbiamo il prezzo buono allora ho aspettato tanto questo momento ora voglio farvi vedere la situazione della lana delle uova voglio farvi vedere la situazione di prezzo attuale abbiamo un 5482 euro al johnson farmer market quindi non aspetterei un attimo andrei a caricare subito così almeno ci leviamo anche questa vendita e dovremo incassare qualche soldino perché il prezzo è molto valido e quindi buono allora ho caricato tutte le uova prenderò anche questo bancale così almeno il punto di spawn è bello libero tirerei le cinghie però non me le prende non mi prende le cinghie sul bancale di uova forse perché così non le rompe sì vabbè diciamo che intanto caricando il pallet il pallet così l'avremo rotto lo stesso le uova ma questo è un altro discorso allora abbiamo detto che ce le pagano meglio vediamo di nuovo il negozio 5491 e contrassegniamo il luogo o la apriamo un attimino la mappa no nord ovest andiamo a vendere ragazzi andiamo a vendere sono curioso di vedere quanti soldi faremo non ne abbiamo tante però qualche bancaletto ce lo abbiamo ok vedo il segno verde quindi dobbiamo darci in su e niente direi che ci vediamo direttamente al punto di vendita ragazzi questa neve ragazzi casca proprio a fagiolo anche perché qui in liguria da me sono arrivate le prime nevicate nell'entroterra di genova verso saravalle sta nevicando e speriamo che si sposti anche un po sulla costa ma è difficile qui da noi diciamo che devono esserci proprio le condizioni ottimali perché nevichi deve entrare dal mare deve esserci freddo insomma qui da noi è molto difficile però non è impossibile è già venuta diversi anni che però non si fa più vedere intanto siamo quasi arrivati ragazzacci guarda che bella cascina che hanno questi che meraviglia chissà se andando avanti con con gli episodi faremo i soldi anche noi ci potremo magari trasferire costruire uno stabile del genere ma speriamo dai vendiamo qua io penso che deve andare no su questo trigger qua sì 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 stiamo salendo come soldi ragazzi stiamo salendo mamma mia abbiamo passato i 100 mila euro ragazzi beh buono 58 mila euro avevamo 8 bancali avete visto che ci hanno reso bene le galline io non so dove sto passando ma vabbè andiamo a fare un giro nei prati ma no seguiamo questo sentiero pedonale scusi eh scusi abbia pazienza lo so che è un sentiero pedonale ma non si preoccupi tutto sotto controllo dopo aver messo il rimorchio a posto ora posteggiamo il trattore e organizziamo un attimo i lavori quest'oggi non so penso che non farò più niente anche perché non ho niente da fare quindi facciamo passare questa giornata e vediamo lì domani poi magari andremo a fare o qualche contratto vediamo un attimino cose che ci si pone vabbè lì ho lasciato attivo si vede ancora il punto di interesse speriamo che non nevighi che non piova domani vediamo un po no dovrebbe essere bel tempo bel tempo fantastico una bella giornata di sole siamo all'11 febbraio oggi c'è sole domani è neve innanzitutto qua vedo bene che le erbacce sono sempre a zero bene lì sono spawnate altre due bei bancali di lattuga e lì abbiamo il bancale di di uova però allora cibo 2000 ne abbiamo ancora quando poi finirà lo compreremo qua dalla buy station tanto ci costa un po meno poi vabbè ovviamente poi una volta che siamo partiti che l'abbiamo seminato useremo il nostro allora notando che le varie produzioni con gli animali ci stanno rendendo anche abbastanza bene allora ho ponderato un attimo su una cosa allora è inverno per adesso abbiamo tutte le semine bloccate i raccolti bloccati e quindi perché no ho pensato aggiungiamo un un apiario al alla nostra fattoria 1 magari 2 vediamo un attimino che prezzi hanno io avevo pensato di inserirlo fuori di qua in modo tale che non dia fastidio al resto della farm in modo tale che quando passiamo vicini non dobbiamo cioè che siamo in farm e facciamo i nostri lavori non dobbiamo per forza imbardarci per passare davanti ad alveare e io avevo studiato questa zona questa zona potrebbe essere secondo me valida per per ospitare due due bei apiari allora vediamo il menu di costruzione che cosa ci propone allora su anima no produzione no animali animali api allora c'è l'arnia singola però l'arnia singola non è che sinceramente allora l'alveare produce miele sarà posizionato in un luogo centralizzato da qui star appa ok va bene però dobbiamo mettere anche il che l'ho già scaricato infatti vedete il il posto di spawn moddato dai mettiamo questo apiario vediamo un secondino dov'è che ci possiamo mettere con tutta la situa io lo metterei fuori di qua ne metterei intanto ho letto che ci migliora le culture perché le api come ben sapete impollinano direi come terreno di mia proprietà perché è vero dobbiamo comprarlo sì allora io lo metterei qua anche perché non ci rompe le scatole a noi con le varie lavorazioni non è troppo vicino alla farm e possiamo mettere anche il punto di scarico il punto di spawn scusateli a fianco e non ci disturberebbe affatto quindi ne metterei uno così tac uno sì sì non ti preoccupare si sovrappone si sovrappone allora ne mettiamo lo mettiamo attaccato qua quindi siamo rimasti di nuovo in braghe di terra bene ne mettiamo solo uno dai ne mettiamo solo uno e mettiamo il suo punto a fianco è troppo penduto possiamo metterlo anche qui a fianco dai senza fare troppo ok perfetto ora vediamo un attimino com'è venuto siamo dall'altra parte dobbiamo andare qua ok allora vabbè si è affossato un pochettino il terreno ma ce ne faremo una ragione semmai possiamo un attimino addolcirlo quello non è un problema allora vediamo se portata 150 metri ottiene il miele dalla postazione dei pallet ma quindi noi non dobbiamo fare niente praticamente fanno tutto sole allora aggiustiamo un attimino il il terreno perché così non si può vedere e mi dà fastidio costruzione progettazione paesaggio allora modalità modalità questa forse sì questo ok così almeno aggiustiamo un pochettino le cose ok ho dato una spianatina generale e vediamo ho difatti adesso un po più dolce bene bene molto già che ci siamo portiamo un rimorchietto di frumento alle nostre galline quindi mettiamoci bene qua sotto ricarichiamo di frumento visto che ne abbiamo poco preferisco comprarlo per fortuna abbiamo una bella giornata oggi allora siamo attenti a non dar del danno ragazzi perché veramente ci vuole poco ci vuole molto poco piano 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 aderizziamoci ok perfetto siamo riusciti anche a fare manovra con il rallato un'ottima cosa questa scarichiamoci questo bel frumento c'è un po lenta scaricare ok mille litri ci avanzano e già che abbiamo acquistato non lo buttiamo assolutamente via ma ce lo buttiamo in saccoccia lo scarichiamo qua perfetto scarico completato peccato non avere fatto prima le api ma purtroppo ragazzi siamo rimasti senza fondi e quindi non è che non si può far tutto l'anno prossimo avremo da vendere anche parecchio miele dai tanto a febbraio poi c'è marzo inizia la primavera le api dovrebbero iniziare a produrre bene ho visto che il miele è anche abbastanza pregiato è qui su farming 22 voglio andare a dare un'occhiata al prezzo e fra l'altro il prezzo frutto a c'è il prezzo più buone a marzo quindi ovviamente quando è che noi lo faremo lo consegneremo a marzo prossimo lo stiveremo via per un anno porca paletta 4247 euro alla fabbrica di cereali e buttali via abbiamo fatto bene a mettere ragazzi anzi dovevamo farlo prima mi vedete qui allo store perché ho deciso di andare a nolleggiare un bel aratro non avendone neanche mezzo perché voglio preparare il terreno per poter iniziare a piantare i nostri primi olivetti sì perché qua diciamo porteremo in america l'olio e nella serie europea che sto preparando il vino andiamo a cercarci il nostro menu dove ci mettono a disposizione gli aratri ed eccolo qua 160 cavalli penso che non ci sia nessun problema lo noleggiamo ragazzi perché non ho alcuna voglia di spendere soldi inutilmente ce lo attacchiamo e non facciamo altro che andare a sceglierci il nostro primo campetto dove andremo a piantare le olive allora visto che dobbiamo iniziare visto i fondi con con poco avrei intenzione di mettere le olive qua allora facendo due conti mi sa che ci conviene metterle in questa direzione quindi dispieghiamo il l'aratro ok in questo modo abbassiamo e diamo una arata in modo tale da riuscire a vedere bene le strisce di posizionamento e da svangare il terreno più possibile devo girare giusto quindi giriamo l'attrezzo facendo attenzione a non distruggerlo allora devo andare ok così quindi devo stare praticamente con il filo del muso sul solco appena fatto sull'ultimo solco verso sinistra verso destra può prendermi bene i miei punti di riferimento perché voglio fare la lavorazione voglio cercare di fare tutta la lavorazione con l'interno gabina quindi già giriamo il tocco e non è non è semplice bisogna prenderci la mano ragazzi lo so che voi già siete esperti ma io invece un po meno manco da far manco su farming da parecchio tempo ma quello un altro discorso giù l'attrezzo e via di gas scagliamo marcia perché ok sobbalziamo ragazzi sobbalziamo quindi devo dire che sta affaticando il cervetto qua eh eh sì sentite che il motore va giù ok alziamo giriamo lo so che andrebbero in teoria lasciate le capezzagne però in questo in questa situazione qua sinceramente non non ci guardo molto queste cose qua nel senso che mi preme fare la striscia dritta più possibile piano è piano druido che ci investiamo ok vai gas e dagli gas eppure io le pietre quale avevo raccolte tutte ma sono rispawnati non capisco se le pietre si crescono come le colture che le semine crescono e si coltivano da sole guardate l'effetto della terra che meraviglia che è oh dai 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 stiamo prendendoci il giro anche nella ratura guardate che meraviglia l'effetto della terra sul sul vomero uno spettacolo veramente eh uno spettacolo veramente vabbè ragazzi io vado un po' avanti ad errare e poi ci vediamo quando abbiamo quasi ultimato mi sto divertendo veramente tanto ad errare ragazzi eh eppure non mi era mai piaciuto su sul 19 avrei fatto fare tutto all'operaio ma direi che è un mix giusto perché hai il sound che ti gasa parecchio cioè senti proprio il trattore quando sforza e mi piace ciò e poi non so è come se non so mi da mi da un buon feeling questo gioco mi sta mi sta piacendo per per come fatto si sente molto la risposta del 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 trattore cioè nel senso è diverso è diverso poi vedete io appena entro in in campo cioè è come se entrassi veramente nel solco io poi lo sto giocando con un monitor enorme e alla massima risoluzione quindi voglio dire magari questo aiuta nell'esperienza di gioco ora devo dire la verità mi sto divertendo tanto mi sto divertendo boldo difatti ho deciso di ricominciare a registrare per per portarvi uno spezzone di tiratura in più perché mi sto divertendo molto tutti i suoni ragazzi il cambio le marce che entrano la pompa idraulica che va sotto sforzo quando si gira l'attrezzo non male non male veramente sono soddisfatto peccato per qualche errorino ma confido che verrà aggiornato presto è nel senso stavo parlando di di un update entro fine dicembre quindi ma ci siamo dimenticati di girarlo perché chiacchiero quando si lavora non si chiacchiera druido che poi allora giù l'attrezzo che poi sicco si combinano dei casini vedete dai abbassiamo e andiamo qui è bello che si vedano tutti i sobbalsi durante la lavorazione cioè si sente proprio si vede proprio la fatica del 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 trattore mentre fa questa lavorazione si percepisce molto bene ok giù l'attrezzo e anda in realtà il campo è già è già finito peccato farming 22 è stato l'unico farming che mi ha fatto apprezzare questa lavorazione attenzione all'albero qua piano 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 entra in campo a modo che non vorrei mica devastare tutto come devo un po riprendere perché sono andato storto prima ok alziamo che giriamo texture del del terreno sono molto belle e siamo alle ultime due tre passate così poi noi belli tranquilli nella prossima puntata ci prepariamo l'oliveto e sono curioso di questo oliveto qua di queste olive perché la vigna l'avevo già provata come mod nel 17 nel 17 forse sì mentre invece il le olive con l'olio non ho mai mai provato quindi è la prima volta per me che farò questo tipo di lavorazione lei si si tolga dalle scatole che noi qua stiamo lavorando non abbiamo tempo da perdere ecco bravo vada per funghi lei si ha il tempo di farlo ok abbiamo le ultime due passate con le ultime due passate finiamo il nostro bel campetto poi off camera mi raccoglierò le pietre e mi sa che le pietre le disabiliterò perché sinceramente non non mi sembra una cosa poi tanto realistica che debbano uscire così tante pietre in ogni erpicature ed aratura quindi le disabiliterò perché secondo me è una cosa che qualche pietra arando può uscire fuori ma diciamoci la verità non non è in questo modo ok aratura completata alziamo tutto allora andiamo a dare una sciacquattina al trattore al al trattore e all'aratro così almeno poi ce lo riponiamo intanto il tempo a nostra disposizione anche quest'oggi è finito bella lavatina oh il trattore va tenuto bene ragazzi eh treneteli bene i vostri mezzi diamo una bella sciacquatina non ti preoccupare non ti preoccupare che rientra adesso ha paura che rompa il tubo ragazzi buttiamoci sotto laviamo bene tutto ok bene bene così bene così bene ragazzi per questo video è tutto non mi resta che invitarvi ad iscrivervi al canale attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che usciranno mi raccomando seguitemi su instagram link sotto in descrizione commentate mi lasciatemi un bel feedback su cosa ne pensate di questa serie cosa cambiereste e datemi qualche consiglio sulle cose da fare in futuro qui da xd88 è tutto un saluto ragazzi e alla prossima ciao ciao